Sì, Padova è un laboratorio di buone pratiche e come ho citato poc'anzi, tutta la parte del tracciamento sicuramente per me è stato essenziale confrontarmi con l'Università di Padova e con il Presidente Zaia per portare un modello che poi è stato in gran parte accettato dall'Istituto Superiore di Sanità e l'abbiamo implementato in tutte le scuole. Io ritengo che raggiungere il 90%, se poi i comportamenti continuano in maniera responsabile come tutti noi abbiamo fatto sinora e le curve vanno come vediamo adesso, sicuramente il Governo penserà bene un qualcosa che potrà andare verso delle misure più leggere.